trinquellenza ragazzi bentornati sul mio canale oggi siamo tornati qui con la serie di slider.io e vogliamo fare le nostre solide giocate sperando che non laghi perché quando gioco io lagga sempre quando gioca mio fratello non lagga mai noi cerchiamo di spostarci verso il centro così c'è più gente cerchiamo di ammazzare ci proviamo percorre un sacco di tempo e comincia a laggare ci spostiamo verso il centro prendiamo un po di cibo così ci ricarichiamo e possiamo andare in velocità è così stiamo arrivando nel centro tanto un ammazzato però non l'abbiamo ammazzato noi ci giriamo qui così ci arrotoliamo e siamo morti vabbè c'è sopra stadio andremo a fare ancora un'altra partita quando noi perdiamo sempre e prendiamo ancora questo cibo ci prendiamo questo cibo eccoci qui ascoltando qualche mero compagnia dell'altra partita e i tirani e possiamokea ecco qua dimoriamo questo gioco andiamo a fare ancora una paraclina e mi guardo cosa stai aeree perché non è difficile è difficile dobbiamo accelerare ma tanto a successo non è successo quando abbiamo ammazzato noi un altro ci ha ammazzato a noi E quei due si sono rigevati in là e hanno fatto, cioè, si sono cresciuti e cresciuti. Sì, non mi sono lasciati, non mi sono lasciati. Andiamo. Guardate come è. Tanto qui se avete sentito una bombetta, non so se l'avete finita, ma non so chi è. Spero che questa serie vi piaccia. E quindi vi ho mostrato la programmazione del mio canale. E' un martedì, ci hanno dettagli a sconto io. Quindi, siamo arrivati. E quindi vi ho mostrato la programmazione del mio canale. Dunque, a uscita! Un martedì qui! Un martedì! Un martedì! avrebbe dovuto essere morto lui invece siamo morti noi ragazzi che dire questo video è finito qui cerchiamo di arrivare 10 pollicioni in su se non ce la facciamo arrivare non fa niente naturalmente la vostra Daniel è tutto e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto bella